Chi sperava in un passo indietro del governatore De Luca sul tema delle passeggiate e dello sport all'aperto rimarrà deluso due volte. In primis perché il TAR della Campania ha respinto il ricorso presentato da un privato cittadino proprio contro l'ordinanza emessa il 13 marzo dal presidente della regione Campania per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. Il governatore aveva deciso di inaspirare le restrizioni previste dal decreto perché è preoccupato dal comportamento, dallo stesso ritenuto poco responsabile, dei cittadini della sua regione. Altro che dietro front, in più nel pomeriggio a rincarare la dose è arrivato il parere del ministro dello sport Vincenzo Spadafora. I continui spostamenti registrati in queste ore e dimostrati da un alto numero di multe potrebbero convincere il governo a emettere nuove restrizioni. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora ha detto testualmente che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione la possibilità di un divieto completo delle attività all'aperto. Quando abbiamo lasciato, chiarisce il ministro, questa opportunità, lo abbiamo fatto perché la comunità medico-scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di correre anche per altre patologie sanitarie. Ma l'appello generale era quello di restare a casa. Se non viene ascoltato, saremo costretti a porre un divieto assoluto. Insomma, gli sportivi campani dovranno mettersi il cuore in pace e rimandare tutto, si spera, all'estate. Al momento l'unico appiglio restano gli allenamenti casalinghi, la ciclette, il tapirulande e i pesi, oltre che naturalmente un occhio alla dieta. Gli unici a sorridere saranno i pigri, felici di poter rimandare ancora una volta quella corsetta che si erano imposti di cominciare a fare.